buonasera allora situazione al 10 luglio come al solito io vi porto il resoconto così via video perché nonostante tutto sto rispondendo a una marea di commenti di messaggi e non riesco davvero sono sempre più tanti quindi io continuo a fare i video con il breve riassunto quotidiano ringraziandovi sempre assolutamente infinitamente non so manco che parole usare sono un po inceppata in questi giorni c'è un po il cervello in tilt manco l'italiano mi esce bene comunque a parte l'italiano non mi esce bene dunque com'è andata oggi allora questa mattina quando siamo arrivate con con la visita del mattino io e mia cognata insieme a erica ce l'avevano fatta trovare svegliato dal coma farmacologico quindi era sveglio ovviamente non era in grado di parlare non era è ancora completamente tutto intubato e devono ancora verificare tutto non hanno trovato la causa di ciò che è accaduto e via dicendo ma intanto appunto lo hanno svegliato e non parla ma quando ci ha visto sia a me che a sua sorella ci ha chiaramente riconosciuti con lo sguardo e il dottore ha detto che comunque è un buon segno il fatto che a livello di lucidità mentale ci abbia riconosciuto infatti ci ha chiesto proprio se avevano avuto la sensazione che ci avesse riconosciuto meno assolutamente ci ha riconosciute poi voleva anche cercare di alzarsi logicamente tutto bloccato è legato al lettino perché è pieno di flebo tubi c'è al respiratore e quindi non può muoversi però distinto cercava già un po di muoversi discorso adesso di tutte le problematiche che possono esserci di tutti gli strascichi che può aver lasciato a livello neurologico questa batosta inizieranno a valutarli da domani la causa del perché sia accaduto ancora è ignota ma intanto nel frattempo stanno valutando almeno di andare avanti con ciò che possono scoprire e in primis cercano adesso di vedere il quadro clinico neurologico domani quindi ci hanno detto che verrà gli verrà fatta una un elettroencefalogramma e arriverà un neurologo dall'ospedale di macerata per valutare appunto tutti i danni neurologici che ci sono o meno fisicamente ancora sotto le terapie quindi per ora il tutto è stabilizzato dalle terapie che sta facendo la parte sinistra quindi il braccio e la gamba sinistri sinistre sinistri il braccio sinistro e la gamba sinistra perché non so se metterla al femminile o al maschile sono momentaneamente sembrano perlomeno momentaneamente paralizzati non li muove mentre la mano destra e la gamba destra le muove la faccia però non ha segni di paresi o cose varie sembra abbastanza morbida e lineare però ripeto c'è il respiratore c'è un sacco di tubi c'è il cerotto che tiene fermo il respiratore quindi non è proprio semplicissimo vedere tutta l'espressione facciale ma sembra che non ci siano blocchi nel viso mentre invece per quanto riguarda tutta la parte sinistra del corpo che per ora sia totalmente bloccato quindi totalmente paralizzato sì da quel lato poi se sia una cosa temporanea fissa di un'intensità lieve o di un'intensità forte questo ancora è tutto da verificare nel pomeriggio poi siamo tornati nuovamente perché il dottore di turno stamattina appunto ci aveva detto che anche proprio a livello di umore neurologico gli avrebbe fatto bene rivederci vedere che eravamo lì e tutto il resto e quindi siamo tornati visto che era sveglio siamo tornati nuovamente invece sempre nel pomeriggio un po perché era entrato in agitazione lui e un po perché dovevano fare tutta una serie di altri controlli gli avevano dato un blando sedativo e quindi era sveglio però era un po intontito dal sedativo non era proprio svegliissimo ecco come questa mattina e e appunto ci hanno fatto presente che domani faranno i primi e certamente i neurologici con l'elettroencefalogramma e tramite appunto un neurologo che arriva apposta per stilare tutti i dati in merito alla sua condizione neurologica questo è piccolino ma alla fine è l'aggiornamento di oggi poi noi siamo rimasti lì un bel po ci guardava cercava di parlare però ovviamente appunto col tubo e tutto non riusciva ma diciamo che la testa era decisamente presente nel suo insieme ecco non era assente non era svarionata e ci guardava quando gli parlavamo quando gli parlavo io quando gli parlava sua sorella riusciva anche un po a voltare lo sguardo e leggermente il viso in base a chi delle due stava parlando dei due lati del letto e insomma piccoli piccoli passi piccoli progressi che per ora sembra stiano andando meglio ora appunto domani ci sarà la valutazione dei dell'insieme di danni e non danni neurologici che si sono verificati quindi poi appena riuscirò a venire a casa e a sedermi al computer vi aggiornerò anche su ciò che eventualmente ci diranno domani stasera sono riuscita a sedermi al computer a quest'ora e sono le 23 25 tutto il giorno abbiamo fatto tutta una serie di avanti e indietro appunto per l'ospedale poi per altre situazioni che andavano sistemate eccetera quindi io purtroppo adesso come adesso interagisco pochissimo e quel poco sempre a quest'ora più o meno sulla sera tardi ora carico quest'ennesimo video che come gli altri chiamerò situazione al in questo caso al 10 luglio e andiamo avanti vediamo piano piano la situazione come evolve in che maniera in che modo e grazie sempre grazie a tutti quelli che mi chiedono a tutti quelli che si interessano a tutti quelli che hanno mandato un po di luce che hanno messo in pentasfera o in genesa anche a quelli che hanno fatto una preghiera perché se loro ci credono comunque hanno mandato energia positiva da parte loro quindi perché no a tutti quelli che mi stanno aiutando a partire principalmente da erica dall'ambrogia che poverina altro che ambrosia sta facendo mi sta portando avanti indietro in ogni dove e tutti qui da dal paesino sono stati tutti 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 proprio intorno a me sono ci sono prodigati tutti a dirmi se hai bisogno di qualsiasi cosa non aiuto uno strappo qualsiasi cosa ci siamo tutti quindi veramente devo ringraziare il mondo intero e oltre in tutti i sensi niente io appena ho altre nuove vi aggiorno già per come lo avevo visto quando è stato male sabato a come l'ho visto oggi seppur ovviamente ci siano tutta una montagna di problematiche che si notano e una montagna di problematiche che ancora vanno tutte verificate però solo il fatto che fosse sveglio che mi guardasse e mi riconoscesse anche soltanto con lo sguardo eccetera per me è già stato un gran passo avanti andiamo avanti tanto indietro non si può tornare quindi andiamo avanti e vediamo il tutto man mano che accade ciao